Alla mostra d'arte contemporanea presso la spiaggia di Milia Scopelos, l'artista Elena Salvotti fa una composizione di sassi, colori misti, un po' sbattuti dalle onde, colori bianchi, colori verdi e infine il colore nero. Signora, dottoressa, scultrice, artista Salvotti, qual è il suo commento sulla sua opera? Cosa stava a significare? Quelle stesse sono le nostre vite più o meno sbattute dal destino, sbattute nel senso di sconvolte. Sì, ma il significato dei colori? I colori sono... Ok, grazie. L'abbiamo trovata molto in difficoltà, probabilmente un'opera astratta senza altro significato, come la maggior parte delle opere di arte moderna, d'altronde. Tutte cazzate che una serie di cazzoni dicono che sono opere d'arte, che quelle che poi pagano per andare a vederle. Questa sì che è opera d'arte, è la natura. Questa! Eccola qua! La trasparenza di questa acqua! Ed ecco la nortra artista che si bagna nel mare Egeo, per la spiaggia di Skopelos. Oh, purtroppo ci sono io che ti faccio ombra e quindi rovino la ripresa. Ecco qua! Qua sei rovino la macchina? No, io ti facevo ombra e rovino la ripresa. No, io ti facevo ombra e rovino la ripresa. No, io ti facevo ombra e rovino la ripresa. Io ti facevo ombra e rovino la ripresa Grazie a tutti